Ciao a tutti, Eudishow 2022, direttore commerciale Italia Luca Rellini ci presenta lo Screen. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti all'Eudishow. Oggi vi vogliamo presentare il computer Screen, che è un computer ARA Immersioni Recreative, l'ultimo nato in casa a SEAC. E' un computer di nuova generazione, perché oltre ad utilizzare le tabelle Bullman ZHC16, quindi le più evolute che ci sono in questo momento sul mercato, abbina a questo, quindi abbina a dei contenuti molto tecnici, la grande visibilità e la facilità di utilizzo. Due tasti per utilizzare ed accedere a tutte le funzioni, quindi ARIA, Nitrox, Gauge e anche al cronometro. E' un'ampia visibilità dei numeri, che si può anche incrementare andando sempre ad agire sui due tasti e quindi incrementando il contrasto e la luminosità dello strumento. Perfetto, grazie mille.